Una vita spezzata troppo presto. Anna Valentini, appena 17 anni, è deceduta pochi giorni fa all'ospedale Bufalini di Cesena dopo un intervento d'urgenza. La giovane era stata trovata agonizzante a letto dai suoi genitori, che hanno immediatamente chiamato il 118 per il trasferimento in ospedale. Purtroppo, nonostante i tentativi, non c'è stato nulla da fare. Ieri, lunedì 30 settembre, la sua comunità a Villanova le ha dato l'ultimo commosso saluto. Stando a quanto riportato dalla stampa locale, Anna non soffriva di patologie pregresse. Era una studentessa della quarta classe dell'Istituto Matteucci, indirizzo sportivo. Per molti anni aveva praticato atletica e di recente aveva iniziato a seguire corsi di ginnastica ritmica presso la polisportiva Cava. Nei giorni precedenti al tragico evento, la ragazza ha accusato un malore. I genitori l'hanno trovata in condizioni critiche a causa di un'emorragia cerebrale, risultata fatale. In un gesto di grande generosità, la famiglia ha scelto di donare i suoi organi.